buongiorno a tutti sono fabio ciao io sono silvia e siamo finalmente arrivati alla decisione sul vincitore del nostro video concorso silvia è molto timida ma è una bravissima fotografa da tanti anni anzi potete trovare i suoi lavori sul sito sulla mia pagina che vedete qui sotto impressione ecco quindi cliccate e vedete tutti i suoi lavori è stato difficile si è stato difficile come ogni anno le foto sono sempre tutte molto belle però siamo arrivati anche quest'anno alla conclusione un piccolo problema tecnico quindi non abbiamo il nome di chi ha vinto ma se vi riconoscete scriveteci subito nei prossimi giorni saremo noi a contattarvi la prima fotografia vincitrice l'abbiamo ribattezzata noi perché si è persa la descrizione allora la prima foto vincitrice è quella con la macchina e la sposa l'ho scelta perché l'inquadratura secondo me è molto bella e la sposa si vede mentre sta andando via e quindi lascia praticamente lo sguardo sulla foto è veramente molto bella e secondo me merita il primo bene quindi chiunque tu sia congratulazioni vinci un corso completamente gratuito l'estate 2019 qui nella nostra scuola di sanremo con uno sconto importante per un accompagnatore che vorrà venire con te quindi congratulazioni ti iscriveremo al più presto se ti riconosci iscrivici tu così facciamo anche prima quindi secondo classificato invece allora il secondo classificato è una foto al tramonto fatta al mare su un pontile ecco la vediamo o in un lago non so potrebbe anche essere un lago comunque la vediamo molto bella eccola qui ecco vedete la foto perché l'hai scelta l'ho scelta perché le luci sono molto belle anche qui in quadratura mi piace molto è stato fatto bene e tutto quanto quindi merita secondo posto e siamo arrivati a questo punto già al terzo classificato anche qui non sappiamo chi è però se ti riconosci ecco la fotografia perfetto la foto al terzo posto è una foto di venezia se non erro molto bella è stata ritoccata con i filtri però mi piace veramente tanto perché quello che secondo me conta è l'inquadratura e il taglio della foto e secondo me è perfetto e quindi mette al terzo posto ecco vedete per chi vorrà partecipare al prossimo anno si è già dato qualche indicazione su che cosa le piace abbiamo finito no non abbiamo finito perché abbiamo dei premi in più speciali uno è il premio simpatia eccola qua io odori gatti se appunto non lo sapete quindi questa foto secondo me è molto simpatica il prossimo anno tutti i gatti il prossimo anno tutti i gatti ecco ecco e un ultimo premio invece lo diamo a questa fotografia premio della giuria il premio della giuria è soprattutto per il fatto che non ci sono filtri anche se io non sono contro come ho detto prima però questa foto senza filtri ha un'inquadratura bellissima e secondo me merita il premio della giuria di questo secondo noi abbiamo anche il nome tetiana carocca quindi tetiana lo lascio dire a fabio congratulazioni anche tu vincerai qualcosa di bello arriverà poi a tutti sulla vostra email la descrizione del vostro premio tutte le modalità a questo punto fabio silvia vi saluta vi ringraziamo ci sentiamo prossimamente e vi aspettiamo e vi aspettiamo qua Sanremo quest'estate ciao a tutti ciao